quindi fortunatamente siccome non ci diciamo a mancare nulla, anche all'ultimo momento sempre riusciamo a mettere delle pezze, quindi in ogni caso per noi i problemi sono sempre delle opportunità, quindi vi abbiamo fatto conoscere un altro sito che potremmo sfruttare in qualche altra occasione, ma io direi adesso di passare a presentarvi le varie figure che compongono l'associazione, in primo luogo il consiglio direttivo, il consiglio direttivo lì poi li chiamerò tutti sul palco, così almeno li potete inquadrare, conoscere, perché poi sono persone che lavorano all'interno dell'associazione, praticamente tutti fanno Grazie